Siamo il Teramo, sulle mani il compagno, siamo il Teramo, Cristifania Gandano, siamo il Teramo, siamo noi punte basse, la detta e l'udiava, la termenza e passa. Forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Su Youtube, pacca se no combata può, gli mancazza, è bello non è. Vincenzo D'Antonio non ama molto apparire, ma è una persona estremamente concreta, sempre disponibile, sempre pronto a queste iniziative. Dunque, Walter Zenga a Teramo, l'evento organizzato dal CSI, ma il punto di riferimento è stato anche Vincenzo D'Antonio, come sempre. Beh sì, perché avevo il gancio per Zenga e quindi ho portato questo campione qui a Teramo, l'ho regalato alla comunità, grazie al CSI e ad Angelo De Marcellis che abbiamo assolvato questa fusione, tutto è tutto bene e via. Una bellissima giornata, una bellissima serata. Soprattutto un bellissimo convegno con la presentazione del libro, con la partecipazione di Massimo Cecchini, che credo che sia il top del giornalismo. E ora la serata si concluderà a madre natura. E adesso cena, cena e faremo anche da lì una premiazione, faremo anche una serata benefica fuori dell'Anfas. Siamo il Teramo, sulle mani il compagno, siamo il Teramo, Cristifania Gandano, siamo il Teramo, siamo noi punte basse, la detta è ludiava, la termenza è basso. Forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Compa, lo sai che ti ha famo tu, ti devi iscrivere al canale i Biancorossi su YouTube. Per caso non combate, po', gli mancazza, è bello o non è?